Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto all'aggiornamento di trading con Ichimoku più Price Action la sessione che si svolge ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 17 se andate nella sezione servizi, sessione di trading con Ichimoku più Price Action, trovate la descrizione del servizio ma soprattutto trovate una sessione di esempio qualora foste interessati detto questo però dobbiamo andare subito sui grafici a fare che cosa? ad aggiornare chiaramente alcune posizioni partiamo da un trade dove stiamo soffrendo anche se leggermente abbiamo impostato un long in mattinata su GBPUSD con un target price in area 1.3106 chiaramente target price finale perché dico questo? perché prima di arrivare a target price finale dobbiamo anche cercare di gestire la posizione magari portando a casa parte della posizione sui massimi precedenti in area 1.28 e poi insomma valuteremo il da farsi stop loss a 1.24 l'ho messo qui di sicurezza in realtà in realtà però lo stop loss è la chiusura della candela giornaliera al di sotto del minimo di ieri qual è il minimo di ieri? il minimo di ieri è 1.24 e 54 quindi se i prezzi chiuderanno sotto questo minimo valuterò già una chiusura in stop loss stiamo seguendo GBPUSD al rialzo proprio perché continuiamo a vedere dei minimi via via crescenti ieri c'è stata una bellissima candela che ha chiuso sui massimi e attendiamo insomma quindi nuovi rialzi non rischiamo mai troppo come diciamo sempre e passiamo al prossimo strumento abbiamo aperto un'altra posizione quest'oggi sul cross valutario CAD Yen con un long dai livelli attuali sostanzialmente zona 79 abbiamo individuato questo bel impulso altrettanto bello ritracciamento che si è concluso sembra su questa zona supportiva in area 78 zona che stavamo tenendo d'occhio da diversi giorni pensavo che si fermasse qui CAD Yen a 79.28 invece c'è stato un apprezzamento dello Yen giapponese e i prezzi sono scesi ulteriormente bene dopo la candela di ieri quindi con una chiusura di massimi abbiamo deciso di entrare al rialzo quali sono gli stop loss quali sono i target price allora lo stop loss CAD Yen è la chiusura daily sotto il minimo qui in area vediamolo subito 78.028 mentre il target price primario è in area 81.50 poi da lì come sempre lasceremo correre e abbiamo target target ben più ambiziosi ma quelli devono essere seguiti bene quindi questa è la nostra operazione su CAD Yen una bella rottura rialzo del trend laterale avvenuto diversi giorni fa rottura avvenuta diversi giorni fa su questo ritracciamento un long a mio avviso ci sta tutto anche qui rischio massimo insomma 1% 2% non di più dopo aver visto questi due strumenti secondo me possiamo andare a vedere un'altra posizione che abbiamo che è quella di WSDHF anche qui un bel impulso che rompe l'acumo il ritracciamento sempre sull'acumo ma il ritracciamento su una zona che stavamo tenendo d'occhio che è questa eccola qui la stavamo tenendo d'occhio poi coincide anche con la Senco Spammi Piatta ma comunque la stavamo già osservando zona 0,95 e 50 siamo entrati un po' più in basso in realtà in area 0,95 e 17 già nella giornata di ieri abbiamo segnalato il tutto all'interno del gruppo Traders Club perché sono entrato short beh basta guardare il grafico nelle ultime settimane abbiamo assistito a una lateralità sostanzialmente però ribassista in quanto vedete che i massimi sono stati sempre decrescenti c'è stata una bella spinta al ribasso con questo bel impulso che è partito dal massimo del 5 di giugno e è andato a testare la zona di 0,93 76 si è creata una candela di indecisione barra inversione e abbiamo assistito al ritracciamento quindi seguiamo questo questo cambio valutario a favore di Franco Svizzero quindi compriamo franchi e vendiamo dollari andiamo avanti perché dopo questo abbiamo il Nasdaq oggi abbiamo fatto siamo andati a target in area 10.000 eccolo qui abbiamo chiuso il nostro trade aperto a 9.500 qui sulla Kijun e chiuso a 10.000 come poi avrete potuto insomma notare nel gruppo Traders Club andiamo subito a vederlo dov'è 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 scendiamolo scendiamo scendiamo eccoli qua Nasdaq target finale raggiunto chiudiamo interamente la posizione che era stata aperta la settimana scorsa entriamo long ci sarà da qualche parte Nasdaq lo troviamo long a mercato da 9.523 il 15 di giugno quindi abbiamo chiuso questa bella posizione cosa fare adesso però è la cosa che ci interessa di più ovviamente allora perché non ho lasciato correre beh perché ragazzi abbiamo assistito a questo ritracciamento la zona supportiva era buona abbiamo comprato è andata molto bene non lascio correre in questi casi perché siamo in una situazione abbastanza delicata per quanto riguarda gli indici azionari secondo me non è che possono spingere così forte al rialzo ciò non toglie che allora dovessimo assistere a un altro ritracciamento dopo una possibile rottura dei massimi precedenti allora lì andremo nuovamente a comprare quindi intendo se adesso assistiamo a una rottura forte al rialzo e poi un ritracciamento su delle zone interessanti continueremo a comprare anche se la situazione delicata e i prezzi sono molto alti però agiremo in questa maniera ecco per diminuire al massimo il rischio bene fino a quando poi non ci sarà un cambio di direzionalità che per ora però non c'è quindi bene anche il nasdaq concludiamo andiamo verso la conclusione dobbiamo parlare di bitcoin ragazzi bitcoin che continua a segnare minimi via via crescenti andiamo a vederli eccoli qui uno poi abbiamo un ritracciamento e questo è il nuovo minimo un altro ritracciamento altro ritracciamento altro ritracciamento guardate questi minimi come sono via via crescenti però la zona dei 9800 10500 non viene rotta continua a funzionare molto bene dalla resistenza quindi la situazione qui è un po' particolare si può provare anche un long non dico da questi livelli ma comunque in questo intorno puntando alla fortissima rottura che prima o dopo avverrà su bitcoin con uno stop per esempio al di sotto del minimo qui in area 8900 attenzione perché una rottura forte al ribasso potrebbe cambiare il trend di fondo e raggiungere perché no la zona degli 8275 dollari questa è la mia view su bitcoin agiremo poi di conseguenza guardate nella giornata di ieri i prezzi come hanno testato l'accumo ascendente che ha funzionato molto bene da supporto bene per ora questa è la mia view su bitcoin a breve probabilmente andremo a comprare ma verrete avvisati nel gruppo traders club e alle sessioni del giovedì imperdibili per capire un po' la nostra completa operatività andiamo a vedere euro dollaro euro dollaro che sta scendendo come detto 1.14 era un livello molto importante da qui i prezzi stanno scendendo 1.14 e 1.15 una fascia ampia anche qui i prezzi stanno scendendo però la mia view è rialzista attendo ulteriori storni perché secondo me da qui è ancora troppo presto per entrare al rialzo però già potrei valutare un long da 1.11 e 50 o più in basso addirittura intorno a 1.10 e 70 questi sono i livelli chiave per quanto riguarda il cambio più tradato in assoluto euro contro dollaro molto bene continuiamo e andiamo a vedere anche euro nzd e poi abbiamo finito allora qui stiamo tenendo d'occhio il dollaro neozelandese che si sta apprezzando abbastanza nell'ultimo periodo come vedete abbiamo assistito a un bel ribasso che ha rotto una zona supportiva importante che adesso vado a segnalarvi eccola qui una zona supportiva a mio avviso importante rotta con forza il ritracciamento si è concluso almeno per il momento proprio qui e noi abbiamo impostato un ordine pendente che qui non c'è perché perché per gestire al meglio questo trade sono passato ai mini contratti essendo un cambio un cross valutario molto volatile dobbiamo sempre adeguarci e purtroppo non siamo entrati maledetto da 1.75928 oggi non siamo entrati veramente per poco come ne sono accorto in questo momento e siamo stati un po' sfortunati che vi devo dire pazienza però insomma rimaniamo fiduciosi i prezzi possono tornare su quel livello attendiamo con pazienza la view è short qual è lo stop qual è il target target primario 1.72 poi si può anche valutare di lasciar correre stop loss dove? qui in alto 1.79 no questo è solo lo stop loss di sicurezza si può valutare un'uscita già alla rottura al rialzo del massimo di giovedì 11 giugno a 1.7653 oppure alla chiusura sopra 1.7780 sto parlando sempre di chiusure debili bene per oggi direi che abbiamo concluso ci sarebbero molti altri argomenti di cui discutere ed è proprio per questo che io vi aspetto come ogni giovedì alla sessione di trading con Nishimoku più price action buona serata e buon trading a tutti e buon trading